Che dire, io mi sto divertendo ad andare in giro a conoscere negozi, nuove persone, nuove filosofie di corsa, nuovi amici, insomma si cresce. Altro che dire, dai momenti in cui le metti è difficile poi sostituirle con altre paie di scarpe. Allora ragazzi, il mio compito sarà quello di portarvi in giro per Firenze e mostrarvi qualche curiosità della nostra bellissima città gigliata, fuori in aria. Allora questi qui sono accelerometri che servono a fare l'analisi dinamica del passo. Grazie a tutti. Leggerezza e l'ecotempo, una buona stabilità, un'ottima scaltata. Potrebbe essere la scarpa giusta magari per le nostre prossime gare. Quindi ringrazio sicuramente gli amici di Altra, di oggi in giro, Michele del negozio che ci ha ospitato nel migliore di Piero.